Parliamo di Prato con l'intervista preparataci da Vezio Trifoni con l'attaccante Gabriele Moncini appunto in vista del prossimo turno di campionato e soprattutto per un'analisi di questa situazione davvero preoccupante per la squadra bianca azzurra. Allora con Gabriele Moncini insomma momento delicato e piuttosto negativo e il Prato esce sconfitto da questo spareggio, da questo derby col Pontedera e adesso va a giocare con quattro partite, una più difficile dell'altra perché Olbi ha Alessandria, Cremonese e Arezzo però forse alla fine può essere anche un modo per andare a giocare con le più forti e sfidarli. Sì il momento è quello che conosciamo tutti ma può essere anche una cosa a nostro favore giocare magari con squadre più forti che magari sulla carta sono più forti di noi e la classifica lo dimostra però magari può essere una spinta in più per noi per entrare in campo con un atteggiamento diverso da queste partite. Mister Monaco che è appena arrivato, ti ha fatto giocare tutti i 90 minuti domenica quindi questo è un fatto positivo per te e anche un modo per cercare di andare a segno perché è un prato un po' deficitario da questo aspetto. Sì diciamo che stanno mancando i gol degli attaccanti fatto di aver giocato 90 minuti i titolari ancora non ci sono i titolarissimi però Mister è arrivato a questa settimana, lavora molto quindi penso che sia la cosa positiva sia quella che ci faccia lavorare bene, pensa poco a parlare si lavora molto sul campo e ci prepariamo al meglio per le prossime partite. Ha fatto fare subito una doppia seduta e si vede anche dal fatto che parla poco ma fa come dicevi te prima lavorare tanto in campo. Sì magari prima era un paio di mesi che non facevamo una doppia seduta Mister da quando è arrivato ci ha fatto subito fare penso che anche questa settimana la rifaremo e sicuramente è una cosa positiva perché il lavoro è importante, più elementi facciamo meglio è.